Canta Giovanni Renzi! Un applauso! Canta Giovanni Renzi! 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 non presentate i battisti, non presentate i quinto perchè... allora, comunque... non presentate, continua dai, non presentate i battisti allora, cantate solo, che ne so, cincino e trottola e basta oppure l'anno prossimo non se canti solo i cartoni di canti di canti, la di oscar, la corte di francia oh, giusto quindi... arrivati al dunque vanno di dire che intanto ho avuto tanto coraggio esatto un applauso e coraggio intanto è un talento a tutto l'ondo perchè suona e canta oh, perchè? perchè un sacco di gente si suona e suona e canta perchè sei sorta, stavamo qua sotto tu parli al microfono quindi, va bene quindi per me anche si, ovviamente tu, per te sei lei? chi se lo prende? decine lui decine lui decine lui aia aia una scelta brutta sta scelta farei chiudere la squadra già dell'alchimista si stava pure e ti rivolge alla bionda così mattina se ne va a casa non lo sentimo più la bionda la mora la bionda la mora la bionda la mora la possibilità di scelta la mora no la bionda la mora